Orti urbani per combattere stress e crisi da pandemia. Anche in provincia di Sondrio l'estate 2021 si distingue per la crescita degli orti urbani. Spinti dalla crisi economica generata dal covid, ma anche dalla voglia di trascorrere più tempo all'aperto, sempre più cittadini coltivano frutta e verdura in giardini, terrazzi e campi in città. Secondo un'indagine di Coldiretti, il fenomeno coinvolge 4 italiani su 10, giovani compresi. Ai motivi economici si sommano quelli di voler trascorrere più tempo all'aperto, afferma il presidente di Coldiretti Sondrio, Silvia Marchesini, a contatto con la natura dopo mesi di chiusura forzata in casa. Una tendenza che si accompagna anche da un diverso uso del verde privato, con i giardini e i balconi delle abitazioni, che sempre più spesso lasciano spazio ad orti per la produzione fai-da-te. La piccola agricoltura familiare per autoconsumo ha una sua specifica rilevanza e soprattutto in momenti di crisi, afferma Marchesini, può rappresentare un'integrazione importante al bilancio familiare. La provincia di Sondrio ne è un esempio, con terrazzamenti e terreni ad uso familiare passati spesso in eredità da generazione. Tra i più giovani, dice Marchesini di Coldiretti, molti hanno addirittura scelto di acquistare terreni abbandonati per portarli a nuova vita, dando inoltre un grande contributo alla tutela ambientale e paesaggistica. Se in passato erano soprattutto i più anziani a dedicarsi alla coltivazione dell'orto, oggi a questa attività si avvicinano anche persone completamente a digiuno delle tecniche di coltivazione.